ciao a tutti amici sono maria e oggi riprenderemo a disegnare e i nostri fiori allora io qua nell'introduzione mostro sempre i materiali che userò in questo nello stesso video questi sono degli acquerelli e si chiamano renaissance dal tubo poi mi sono fatta la palette sono degli acquerelli molto 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 pregiati sinceramente sinceramente ho trovato anche il color carne che schiarito peraltro diventa un colore molto soft è un colore che volevo utilizzare per il mio fiore una base molto chiara difatti alla fine ho lasciato il colore nel pennello come vedete senza intingerlo nuovamente per la parte finale del fiore qui andiamo a costruire un nucleo perché noi comunque quando dipingiamo dobbiamo anche se abbiamo una reference poi la possiamo trasformare soprattutto con i fiori si può fare questo ma un po con tutto però soprattutto con i fiori puoi andare ad aggiungere elementi tanto il discorso è sempre quello la prima parte è la base come questa questa è solo una base che poi dopo ci permetterà di eliminare di continuare con l'acquerello voglio eliminare gli elementi che non ci piacciono aggiungendo dell'altro colore quindi come in questo caso come vedete questo colore che io sto mescolando sta dando vita a un altro colore l'acquerello è bello per quello è anche il bagnato su bagnato perché io qui ho creato un nucleo con dei colori mescolati sopra il foglio e già da una una sensazione qui vado con un color ciclamino che a me piace tantissimo a giocare un po col bagnato su bagnato perché anche se non si vede il colore si sta spargendo sono io che non sto il foglio è già bagnato l'acquerello è già bagnato lo sto solo spargendo e che è una cosa che si deve fare una cosa da sola che farò dopo per una sfumatura che c'è al centro del foglio sotto sotto il nucleo ho visto quella sfumatura mi è venuta l'idea intanto sono andata già a dar vita al nostro foglio adesso sto dilavando ossia togliendo il colore e dando una forma a questo fiore come insomma ecco questo è il bagnato su bagnato ancora più bagnato perché ho aggiunto al colore che prendevo dell'altra acqua oltre a quella che c'è su quel foglio poverino che stava lì a resistere a subire ma faceva perfettamente il suo lavoro e poi andavo a dilavare perché comunque quando si dipinge si disegna si vanno sempre a sperimentare nuove cose ti viene una cosa in mente dici prova a farla e impari comunque una cosa nuova impari le reazioni del foglio dell'acqua ecco qui cominciamo a strutturare già direttamente con bagnato su bagnato l'altro fiore che fa parte della composizione di questo video praticamente quindi sempre con lo stesso colore che è il color carne che a me piace tantissimo il color carne sbiadito quindi mi sono fatta seguire proprio avevo visto delle roseline fine fine fate i fini fini con i petali fini fini e cosa ho fatto ci ho fatto praticamente ci ho fatto le righe delle righe la fantasia quello che vedi lo riporti lì come lo vedi in realtà questi fiori queste roselline sono tutte fatte di tanti petali tutti uniti poi ho cambiato idea e volevo per esempio il nucleo sopra ho detto perché sempre il piano il pio visto il fiore visto dall'alto ho detto no adesso ci facciamo un bel pv cioè che sarebbe il piano verticale il fiore o il piano laterale ecco il fiore visto in verticale o lateralmente in questo caso vale la stessa cosa quindi ho voluto creare un bel nucleo fatto di contrasti io parlo sempre li menziono sempre contrasti in ogni video fatto di contrasti ho detto vediamo cosa ne viene fuori cosa mi viene in mente nel frattempo non avevo non ho una reference sola io quando disegno i fiori quindi comunque sfoglio un pochettino ce li ho già tutti sulle pad lo sfoglio qui infatti sto di lavando mi sembra un po scuro ho provato a fare degli effetti intanto sfoglio magari vedo un effetto che mi piace e lo produco anch'io poi viene fuori in maniera diversa però sempre la nostra sarà sempre un'idea originale e qui sempre sul bagnato che tu quando anche è un bagnato che leggermente asciutto vai a creare dei petali il colore comunque tende un pochettino a camminare e questo è il bello dell'acquerello se tu lo vuoi fisso sul foglio ecco come in questo caso sto facendo i petali laterali lì resterà fisso sul foglio non si muoverà a meno che non sia tu a deciderlo praticamente io ho dilavato quindi ho tolto pulito tutto il color blu non blu l'indaco che ho messo per poi ottenere questi effetti alla fine passi dilavi qua dilavi là praticamente a parer mio questo fiore ho visto appunto lateralmente è molto bello a me piace molto e poi se non vogliamo consumare i nostri pennelli buoni per dilavare perché comunque il pennello fare questo movimento si rovina la punta prendiamo quelli che sono già un po vecchiotti e facciamo questo lavoro e questi sono i pistilli perché comunque qualcosa dentro il fiore c'è le api devono andare a mangiare quindi perché non metterlo in mostra io se non avessi avuto quel fiore giallo su che avevo già dipinto questi pistilli li avrei fatti lunghi 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 poi ho aggiunto anche delle righe per far vedere insomma la differenza tra i petali i petali più lunghi petali più corti la base con le foglie da dove nasce lo stelo il gambo praticamente mi piace mi piace qui ho fatto un po miscuglio perché ovviamente essendo un video si vedono i vari e queste piccole sono le piccole diciamo io le chiamo le piccole gocce di rugiada sono questi puntini che vanno ad arricchire i nostri dettagli e poi ho preso era da tanto che non la utilizzavo questo che non lo utilizzavo questo pennello fatto a forchetta a denti di forchetta e ho voluto provare un effetto che per esempio non avevo mai fatto con l'unico con le col col colore dell'uniposca prima gli ho fatto i quadrettini poi dopo sempre col col colore ciclamino un colore appunto che non si distanzia dal colore originale ho voluto calcare un po sul nucleo e anche sui petali perché ho voluto vedere quale effetto mi avrebbe dato questo la prossima volta per esempio avendolo ho già fatto magari lo potrò fare in un modo diverso perché avendo fatto questo esercizio mi ricorderò i pregi e i difetti che sono dovuta andare a correggere ed ecco la nostra composizione floreale questa è una vera illustrazione perché le volte ho disegno il fiore da sola le volte l'illustrazione quindi ci ho fatto sopra due esercizi e i due prima i primi sono quelli di sinistra ecco le nostre foto io spero che il mio i miei fiori vi siano piaciuti e vi ringrazio vivamente per aver guardato il video ciao a tutti